bella pezzi di cuore bentornati sul canale oggi vi porto l'apertura di 5 bustine premium in attesa dell'uscita del team platino e della bustina premium oro che a dirvi la verità non so darvi una data precisa però spero la prossima settimana con l'uscita del bomber del mese con nuove limited edition eccetera ma prima voglio dedicare il video e salutare atrix 1974 ovvero manuel citer bld staff ovvero elena vin 12 2 antonio florida andrea aime emil girardi dieco yt 4k o no greco 10 alex 81 alex ita 0 5 black angel domenico peluso jerry longombardo yolanda fais ovvero andrea gindra x forse gindra x gamer stocchi ma ben grosso modo penso di avervi detto bene di avervi nominato bene comunque un abbraccio forte e un bacione enorme dunque eccoci qua passiamo i fatti inutile che mi lungo troppo vediamo un po cosa mi riserva questa spacchettata nel box purtroppo non ho avuto molto fortuna secondo il mio punto di vista perché trovare due card invincibili veramente io la chiamerei sfiga poi insomma fatevo bis alcuni di voi che mi ha contattato su instagram mi ha detto di aver trovato in un box una carte firmate due top player carta invincibile insomma ecco come si dice siete nati con la camicia io devo veramente pregare qualcuno qualche entità insomma per avere la vostra fortuna speriamo in queste cinque bustine ok vi ricordo il prezzo di singola bustina premio è di 5 euro eccetera 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 eccola qui ora vediamo un po basta diamo i fatti faraoni partiamo dalle base cards d'ambrosio donna ruma baie vabbè mi sbaglio sempre comunque prendetevi il codice eccolo così lo vedete meglio muriel e e e giaro che giaro sischi dovrebbe essere vediamo un po la limited edition eccola qui subito a pressione è luis muriel molto bene sono alla ricerca della lettera b premium premio premio la carta si chiama così per poter aprire il contest e magari per chi mi segue lo sa poi blitz che ho terminato va bene così teo hernandez e coppia imbattibile napoli e un culo idolo peccato perché le coppie imbattibili sono a fanno parte delle carte base qui dice che si trovano tre carte speciali però vabbè dettagli e io comunque lo sapete sono una persona trasparente le cose le dico e le penso che le dico ecco quindi chiamarmi mette copper mettermi le coppie imbattibile qui vabbè andiamo avanti embreciana vavro castagna iaialo ok mi fermo qui facciamo sto gioco dei prestigio gervinio e milenkovic spero di trovare almeno qualche altro pezzo mancante della raccolta perché sono veramente agli sgoccioli e mi manca veramente poco per terminare la raccolta dunque vediamo un po la limited edition e zilischi molto bene un altro blitz rabbio poi poi che c'è qui o supereroi della lazio bene perché mi manca ora sono a meno tre nel completarli e infine carta idolo birachi che non gioca più nella fiorentina bensì nell'interesse non vado errato ok ma con la terza bustina spero di trovare almeno lo dico una top per dare più un po di pepe a questo video o comunque filippo falco ben naser siriku paloschi mannaggia non sto guardando l'inquadratura ok andiamo da questa parte castrovilli e cragno poi andiamo un po la limited edition che ho completamente le ho tutte le ho completate con il box quindi quello che esce smb so meno che non abbia la fortuna di trovare quella firmata ma davvero ma la vedo veramente dura la limited edition è ben naser vediamo un po le speciali o la stella di delict molto bene mi manca presa bene regà veramente con il suo 97 di difesa dunque un'altra coppia imbattibile va bene del cagliari e per finire cesni guanto d'oro che ho già dato che ho completato tutte le carte guanto d'oro ok vediamo un po questa bustina invece benassi marchetti chiesa va lukevich dovrebbe essere poi andiamo un po al contrario lautaro martinez mi sembra mi manchi ora non ho sotto mano la lista però credo sia l'ultima carta per completare la squadra dell'inter e vitale vediamo un po limited edition rullo di tamburi immaginario un altro benasser non ci credo ma è così poi un speciale addirittura una top player che mi manca con fabio quagliarella nazionale così almeno abbiamo dato un po di freschezza a questo video vamos veramente ragazzi miei quagliarella top player con i vostri occhi finalmente ora mi manca culibali e di trovare cosa da non da poco cristiano ronaldo top player che ho dato che ho messo un premio qualche qualche tempo fa in nel contesto ok ora se mi dai anche la lettera b facciamo contenti anche faccio contento anche voi perché così a meno avrò il secondo contest e addirittura la carta diamante che io ho completato da poco tempo con tonali mamma mia rega che bello quagliarella top player e e e e e taxidis taxidis idolo mamma mia rega troppo 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 contento al settimo cielo veramente ero veramente titubante sulla cosa di trovare una top player veramente dato dati precedenti eh due carta in principale non c'è posso credere nel boxe vabbè completiamo il tutto con opla martella mattiello di carmine qua me andiamo un po qui mirante e e e politano dell'inter anche se non l'ho fatto vedere eccolo qui vediamo un po la limited edition vediamola vediamola è muriel l'ho già azzeccata no muriglio vabbè muriel muriglio stiamo là dai per assonanza e quant'altro poi 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 infine la speciale la mettiamo se la speciale per concludere vediamo un po con 91 d'attacco chi è come se stella che ho già peccato e ah lì c'è anche un bordino rosso ragazzi miei e possiamo sperare bene vediamo un po chi è qui iron macucca che ce l'ho vediamo un po ragazzi miei che lettera sarà rega io spero la b veramente 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 no la lettera mannaggia la miseria questa è già la terza che trovo e vabbè niente mi tocca comprare altri pacchetti altri premium altre bustine premium veramente non c'è cosa ah vabbè peccato rega io veramente spero penso spero che vi sia piaciuto questo video veramente mi raccomando continuate a seguirmi vai con i commenti perché lo sapete che io li adoro e mi raccomando rega sempre a testa alta un bacione e un buon proseguimento al prossimo video rega bella